Per quale motivo hai deciso di chiedere una borsa di studio Fulbright per i stati? Sicuramente uno degli obiettivi che mi ero prefissato per il regime di obiettivi imprenditoriali era quello di fare un master negli Stati Uniti. Quale migliore occasione se non attraverso la Fulbright, che è una delle associazioni più prestigiose che consente questo tipo di esperienza e che mi permette di entrare in contatto con un network sicuramente di valore. Quindi Fulbright è sicuramente la scelta migliore per poter raggiungere questo tipo di obiettivi.